Una bella sorpresa allo Juventus Center di Vinovo, ormai da due giorni Igor Tudor è venuto a lezione da Antonio Conte non solo il piacere di ritrovare un vecchio compagno e altri vecchi compagni ma anche quello di poter apprendere metodi di allenamento perché Igor, benvenuto innanzitutto, tu adesso sei un allenatore. Grazie, grazie mille. Sì, alleno nel settore giovanile di Hajduk Split, mia città dove sono nato in Croazia sono allenatore da un anno diciamo, ho preso questa strada, mi piace e mi diverte. Che tipo di allenatore sei? Un difensivista, visto il passato, il tuo ruolo oppure sei per un calcio alla Conte offensivo? Mi piace calcio senza buttare palla molto in alto, in avanti, mi piace giocare raso terra però prima di tutto un'aggressività è quello che ho visto nella Juve di ora e sono venuto a vedere un po' Antonio, come è riuscito a fare questo. E cosa hai scoperto se ce lo puoi svelare? Non posso, è un secreto. Antonio Conte sta facendo davvero un grande lavoro, tu ti saresti aspettato da Juventus prima in classifica e con queste potenzialità in questo momento del campionato? Ma sicuro di no, come tutti, Juve è una grande sorpresa di campionato, essere primi dopo tanti anni è veramente una felicità per tutti noi tifosi della Juve. Io ho parlato con Antonio, gli ho dato complimenti soprattutto perché è riuscito in così poco tempo dare alla squadra un viso nuovo, un viso diciamo di allenatore, una squadra grintosa, aggressiva che cerca di giocare calcio anche, gli ho detto, che vedo la Juve dopo tanti anni che prova a giocare. Hai incontrato anche alcuni ex compagni che giustamente continuano a mantenere un profilo basso quando si parla di Scudetto però magari a un vecchio amico come te hanno confidato qualche speranza in più. Ma no, non abbiamo parlato di Scudetto però io posso dire mia opinione vedendo tutte le quasi partite della Juve questo anno mi sembra che la Juve è sicuramente una da Scudetto vedendo altre squadre, ieri per esempio, altro ieri Roma Juve poteva anche perdere quella partita però si è visto che la Juve è squadra. Rivedi in questa Juve qualche caratteristica della squadra nella quale giocavi tu? Vedo tanto, soprattutto di grinta che c'è ora nella squadra, di corsa, di aggressività mi piace questa Juve, io spero veramente che Scudetto arrivi già già questo anno che ci sorprende, che Juve sarà ancora di più sorpresa di questo anno. Grazie. 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 Grazie.